Oggi faremo la cottura della pizza contemporanea esclusivamente nel forno di casa Sono Vincenzo Capuano, campione del mondo di pizza napoletana contemporanea titolare delle pizzerie Vincenzo Capuano a Napoli e anche fuori dalla nostra regione ed oggi sono qui prestato a una cucina per insegnarvi a fare la vera pizza contemporanea in casa Oggi parliamo di cottura, il vero problema di chi a casa non ha attrezzature Ovviamente ci sono forni professionali, vedete tanti miei video che sono forni costosi e relativamente difficili da mettere in casa Oggi invece ho scelto di portarvi una tecnica di cottura contemporanea per avere la pizza nel forno di casa a 250 gradi Gli accessori necessari per questa cottura sono semplicemente il nostro forno di casa che massimo arriva a 250 gradi Una pietra refrattaria oppure va bene anche una teglia classica messa al contrario E una pirofila in vetro trasparente Ma adesso andiamo a mettere le mani in pasta e guardate questa cottura contemporanea Partiamo da capire i concetti della cottura La pizza napoletana contemporanea cuoce per conduzione, convenzione e irraggiamento Conduzione sarebbe quando la pizza tocca la platea del forno Convenzione la camera del forno a che temperatura arriva E irraggiamento la fiamma Quindi ho cercato di risolvere questi problemi e dividere la cottura in più fasi Partiamo dall'impasto In questo caso il mio impasto contemporaneo trovate tanti video sui miei social che preparo questo tipo di impasto Cominciamo a stenderlo ovviamente tenendo conto di preservare il cornicione Perché parliamo di pizza contemporanea quindi cornicione bello pronunciato Impasto molto idratato in questo caso è un 80% idratazione Ecco qui Andiamo alla stesura di questa pizza Per oggi ho scelto di fare una pizza di stagione E abbiamo questa crema di zucca bella sana e colorata Forno preriscaldato Palettina Siamo pronti per andare in cottura Allargo un po' la pizza Che ovviamente durante la fase di stacco potrebbe stringersi un po' Quindi l'allargo un poco a poco in più Non metto niente soltanto la base La pizza è pronta per andare su una pietra refrattaria o su una teglia al contrario Ma dentro al forno ho già messo la pirofila a riscaldare Quindi seguitemi bene in questo passaggio Forno stacco la pizza Qui ed eccola Prendo la pirofila e vado a coprire totalmente la mia pizza Questo è l'unico modo per poter cuocere la pizza nel forno di casa e renderla più contemporanea possibile e fatta bene Perché cosa succede? La base fa esplodere il nostro cornicione che restando col vapore all'interno della pirofila resterà morbido e continuerà ad espandersi senza seccarsi Per questo la pizza va cotta col forno statico e mai ventilato Una volta che aspettiamo 3-4 minuti siamo pronti per togliere la cupola e completare la pizza Quindi in totale 7-8 minuti di cottura per avere una pizza napoletana in casa come in pizzeria senza attrezzature Forno, pirofila e una teglia Cosa che in casa solitamente abbiamo tutti Siete pronti a vedere il risultato? Vediamo se il cornicione è esploso Mamma mia ragazzi che spettacolo Adesso è il tempo che si fissa un po' e siamo pronti per togliere la pirofila e far completare la cottura Allora adesso siamo pronti per ultimare la pizza Togliamo la nostra pirofila Andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti Un po' di provola affumicata ovviamente di Napoli E un po' di salsiccia precotta Se avete salsiccia cruda dovete metterla all'inizio insieme agli altri ingredienti ad esempio Adesso la rimettiamo così scoperta in modo da farla un po' colorare Ecco qui la pizza è pronta Andiamo a sfornare Fogliolina di basilico di Napoli Olio beneventano Un filino E adesso andiamo alla prova del taglio della mia pizza contemporanea Fatta in casa con un forno a 250 gradi Ed ecco qui la mia pizza napoletana contemporanea fatta in casa Con questa pizza contemporanea voglio lasciarvi mi raccomando lasciate un like, un commento Iscrivetevi a tutte le mie pagine per insegnare i segreti della vera pizza napoletana Fatta in casa e per vivere con me questo mondo di pizza Vivere di pizza è meraviglioso Grazie, ciao